Il processo di innovazione digitale ha avuto un'accelerazione molto rilevante negli ultimi tempi per effetto del PNR. Molti sono i progetti che sono stati posti in essere per migliorare i servizi nella pubblica amministrazione e anche Istat concorre in questo processo di innovazione. Il volume di cui trattiamo, trasformazione digitale della pubblica amministrazione, metodi per l'interoperabilità, per lo sviluppo di service, descrive il contributo che Istat sta offrendo per il PNR e per questo per il processo di digitalizzazione dei servizi. In particolare, Istat è attuatore del catalogo nazionale dati e in questo ambito ha sviluppato un metodo descritto nel volume, un metodo per l'interoperabilità semantica. È evidente che qualsiasi procedimento amministrativo che ovviamente viene erogato in favore della collettività risulta più semplice da ottenere con la formula digitale e risulta anche più semplice per la pubblica amministrazione la creazione di un provvedimento direttamente digitale se i dati sono interoperabili fra di loro e quindi se la vita del cittadino è semplificata attraverso un'acquisizione assolutamente digitale da parte dell'altra amministrazione che detiene i dati. Stiamo parlando quindi di concorsi pubblici, dei servizi previdenziali e molti altri servizi nell'app. Cosa descrive il volume? Si pone al termine di un complesso percorso che ha analizzato il modello di trattamento dei dati da parte di Istat. in realtà il modello di trattamento dei dati vede dei momenti particolarmente rilevanti la privacy, il trattamento proprio secondo regole proprie nazionali, europee e internazionali, le regole sul digitale, l'interoperabilità, ossia il colloquio che interviene a livello dei dati in modo tale che le pubbliche amministrazioni intendano l'informazione con il medesimo significato. Il medesimo significato che è necessario quindi per la produzione finale degli service perché se i dati non avessero la medesima natura, non fossero interpretabili nello stesso modo da parte degli operatori della pubblica amministrazione, si avrebbe non interoperabilità, bensì un concetto strettamente legato alla processabilità ma di dati che non colloquiano fra di loro. La trasformazione come viene descritta nel volume e diciamo pone una serie di indirizzi e questioni tecniche di proprio processo e tutta questa descrizione può trovare due destinatari. Il destinatario, quindi lettore del volume pubblica amministrazione che partecipe e concorre a questo processo di integrazione dei dati per la produzione di service ma naturalmente per cittadini e studiosi che vogliono approfondire il termine dell'interoperabilità semantica quindi un'interoperabilità concettuale che crea un concetto molto comune e molto conosciuto da parte dell'ISTAT un'armonizzazione dei dati che si parlano fra di loro. Il termine di questo processo vedrà un ulteriore approfondimento da parte di ISTAT di questo percorso con un'analisi di regole e deontologia per l'intelligenza artificiale.